Seguo con attenzione e preoccupazione gli eventi nella Repubblica Centroafricana, dove si sono recentemente svolte le elezioni con le quali il popolo ha manifestato il desiderio di proseguire sulla via della pace. Invito perciò tutte le parti a un dialogo fraterno e rispettoso, a respingere l'odio ed evitare ogni forma di violenza.